Il Veneto in ginocchio si appella alla generosità e alla macchina della solidarietà. Servono soldi e ne servono tanti per far fronte alla devastazione provocata nel bellunese dal maltempo. Per questo motivo la Regione ha attivato un conto corrente dove chi vorrà potrà donare il suo contributo. Il conto corrente è attivato presso la banca Unicredit Spa, tesoreria regionale, ed è denominato Veneto in ginocchio per maltempo, ottobre-novembre 2018. La Regione ha fornito il codice IBAN che vedete in sovraimpressione. La causale è Veneto in ginocchio per maltempo, ottobre-novembre 2018. Spero, afferma il Presidente Zaia, che questo conto corrente possa avere la diffusione più ampia possibile e che, come sempre, possa trovare riscontro nella grande generosità della gente. Da parte mia, aggiunge il Governatore, un solo impegno e una sola garanzia. Ogni centesimo che verrà versato andrà destinato solo ed esclusivamente per aiutare le persone in difficoltà. Avviata anche la procedura per la richiesta di un SMS solidale.